ok allora ragazzi come avete visto il titolo siamo sul video oggi c'è la nuova serie di limbo io sono molto girato però prima pensando all'intro col saluto bisogna fare ovvero vi devo dire una cosa allora ho fatto il settimanale dei miei video allora lunedì cioè lunedì è la serie prima ovvero la serie video del canale minecraft e poi martedì ci sarà serie di walkman veraldo ma poi dopo finirò farò altre serie di walkman poi mercoledì mercoledì sempre serie di poco smeraldo giovedì ci sarà una serie in generale ovvero limbo adesso sarà limbo dopo saranno altre certo venerdì poco smeraldo invece sabato domenica cazzeggio o blog quindi ragazzi per il nuovo inizio di limbo siamo qui con il canale e si e quindi ragazzi direi possiamo procedere col video e buona missione e vai con la intro bella a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video sono carino e vostro caro amico game village ed oggi siamo insieme a Daisy che è il cagnolino ciao come sono gli occhi va bene allora oggi siamo sul limbo che è un gioco a me sta piacendo tanto perché l'ha fatto pure fai j a me non piace peccato fai j perché è bello verso rivediamo ok oddio ancora come altre così si salta quindi un po' e dove dove il volume c'è il volume chissà bell'inizio ragazzi visto? si fa così ok ora so come si fa ok una cosa ok no solo ora fa qua ok ecco fatto qui e ora bello si ma ora cosa succede? c'è solamente sulla barca c'è niente ok navighiamo vabbè basta vabbè vabbè ok vabbè vabbè ok però ragazzi è tutto calmo e poi tocava avanti a sfida e bio e E' tutto scuro Oh aspetta ragazzi Quello e quello lo so che so Sono trappole ragazzi Sono cazzo di trappole Ok ce l'ho fatta E che massa dovrebbe essere quello? Ah lo che ho capito Che figata Ma che ansia Madonna E ora E' un po' E' un po' E' un po' Sto fuggato No Ancora no Vai E quando ancora devo morire? Eh no ok Dopo ore di tentativi Toccava solamente portarlo qua Ok E via Che culo Ma neanche John Cena Riuscite a fare queste cose Come fa un fio? No Come fa un fio a fare tutte queste cose? Cioè è scientificamente impossibile Rosca E via Sì se mi vado Ci dovrebbe essere qualcosa Sì Però non so come ci si arriva Boh Ma se scendo di qui Cado e muoro Quindi a me è stato così Ok Ok Ce l'abbiamo fatta Ok Ehi Ehi Ora basta Quella è la trappola Cosa cazzo è? Oddio raga No è Che fa passato no? Che fa passato giusto? Ma do che paura No Mi sono in alza Cosa cazzo è? Quell'affare immenso Quello credo sia un ragno Si muoverà lì come ci arrivo Oddio Oddio Ok raga Ci ha fatto Perché mi è sentito Prima di mente lui A forza A forza Di darmi le botte Ha fatto Staffare Però io le botte Probabilmente le ho schivate Cosa credete? Cosa credete? No Ok ragazzi Per oggi è tutto Da Da Bossa La Lugan Village E da Daisy Che è una Cana cattiva Ci vediamo alla prossima Spero che vi sia piaciuto E Bella ragazzi Ok Ora per andare Ciao Ciao